Se decidi di cominciare questo viaggio, poi per te sarà impossibile tornare indietro. Tu sei pronto ad uccidere, sei pronto ad essere spietato, non c'è spazio per misericordia e cattura i nemici saltandogli sopra. Tu sei mai trovato sotto il peso del sedere di un cavallo? Ehi, oggi avete le narici più larghe del solito, vorrei vedere lui pulirsi il naso con gli zoccoli. Un'ora sembrerà un secondo e un secondo un'ora. Passato, presente e futuro si intrecceranno in un'ansia di eterno presente. Interessante! Hai perso il cavallo! Una mossa sbagliata vanifica 40 ottime mosse. Scacco matto! Hai perso! Grazie! 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 Grazie!